cose veramente importanti, quindi a te il microfono, non hai bisogno che parli io, te la sai lunga e quindi gustatevi, Kiko Fabri e le due canzoni che vi farò scoprire. Prima di tutto buonasera a tutti ed è un piacere essere anche a casa di tanto in tanto. Per un progetto legato alla rivalutazione di quello che è il folklore romagnolo, il giro per l'Italia e non solo, ho scelto per quanto riguarda il maestro secondo Casadelli per il quale ovviamente l'applauso deve sorgere fortissimo dalle vostre mani, una canzone che vuole omaggiare una storia realmente accaduta dedicata alla mamma. Ed ecco perché questa canzone la dedichiamo a tutti coloro che con nostalgia come me pensano, rivolgendo ovviamente ogni ricordo al folklore romagnolo che mai deve passare ed entrare nella fase del dimenticatoio, ma essere rivalutato. Grazie all'orchestra. Chiorenzo, Walter, pronti? Buon divertimento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i miei spettacoli, anche con la mia orchestra. Parlare della Romagna vestendomi della giacca importante del maestro Vittorio Borghese. Ed è un onore per me aver preso parte del suo palcoscenico per più di dieci anni.